E' stata presentata l'iniziativa Riciclo in Tour promossa da Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica in 10 comuni della Riviera Abruzzese con l'alto patrocinio della Regione Abruzzo. Lo scopo dell'iniziativa rivolta ai residenti e turisti è quello di incentivare la raccolta degli imballaggi in plastica per ricordare che la raccolta differenziata non si ferma mai. Le buone abitudini, ha detto durante la presentazione, il sottosegretario Mario Mazzocca vanno mantenute anche quando si è in vacanza, adeguandosi alle modalità di raccolta che si trovano sul territorio. Dal 5 al 14 agosto il tour attraverserà da nord a sud 10 comuni rivieraschi abruzzesi, Martinsicuro, Tortoreto Lido, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano, Pescara, Francavilla al mare Ortona.